Musica Momenti di tensione questa mattina a Palazzo Farnese quando una delegazione di operai della EgoEco ha chiesto di un senso al sindaco comodo e ha ricevuto un diniego ma solo per una cattiva comunicazione Io ho la comunicazione che lei dice e chiama di figlia mi permette di dare una cosa forse a lei ha guaccato di figlia Le parole belle e le parole perché lei perché in quest'anno alla presenza di più persone è stato sottoscritto questo tipo di accordo perché voi avete diffidato la EgoEco e l'avete inviata per conoscenza al Comune di Castanaballo e Salve che è stato adesso edotto No, mi dispiace, non è così io non prendo le posizioni perché non è il compito mio è il compito del dirigente il dirigente nuovo, la dottoressa Ross dal primo gennaio ha preso questa posizione Ma è che? Perché abbiamo comunicato e l'abbiamo comunicato da otto mesi E il nuovo dirigente ritiene che questo sia un fatto che non può essere solo Ma l'ha comunicato l'ATS1 Mi scusi Allora io i tempi tecnici quando c'è il ritalentimento nei confronti dei lavoratori dobbiamo verificare e chiedere al dirigente del settore ai due dirigenti del settore economico e finanziario dirigente del settore ambiente alla nostra avvocatura ed eventualmente anche ai vostri legali qual è la procedura d'azienda Infine il sindaco ha dimandato a mercoledì 20 maggio alle 11.30 perché è necessaria anche la presenza della dottoressa Flores Grazie